Buonasera, buonasera a voi. Benvenuto. Dunque, allora, più o meno ho cercato di riassumere la vicenda. Se ci sono elementi mancanti, la prego di aggiungerne. Il riassunto è stato molto, molto soddisfacente. Lei ha praticamente toccato tutti i punti importanti della vicenda. Partiamo nel racconto, dicendo che all'inizio, nel mese di marzo e aprile, quando eravamo in pieno lockdown, ci siamo subito, come cittadini italiani, interrogati sulle reali motivazioni che sottostavano all'emanazione dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri. Naturalmente, da avvocato, ho subito posto l'attenzione sullo strumento utilizzato. Si trattava di un DPCM, ovvero di un decreto ministeriale, una fonte secondaria, una fonte amministrativa, quindi non una fonte primaria, normativa. La motivazione, ovviamente, sul perché è stato utilizzato il DPCM al posto del decreto legge, stava nel fatto che il DPCM è uno strumento molto più duttile, non prevede il passaggio in Parlamento per la conversione in legge, quindi sostanzialmente dà molta più libertà al governo, all'esecutivo, di poter adottare quelle che sono state ritenute le misure sanitarie e più importanti da applicare in quel momento alla nazione. Ma vi erano dei passaggi nella motivazione di questi atti amministrativi, perché ricordiamo, ogni atto amministrativo deve essere ben motivato per essere valido, per essere un atto amministrativo valido. E in questa motivazione vi erano dei rimandi ai verbali del Comitato Tecnico Scientifico. Quindi rimandi importanti, perché costituivano la motivazione tecnico-scientifica in base alla quale questi DPCM venivano adottati. Abbiamo fatto istanza, assieme al collega Rocco Mauro Todero e assieme al collega Enzio Palumbo, abbiamo fatto istanza di accesso civico generalizzato a questi atti. Il dottore Borrelli, il capo della protezione civile, ci ha risposto dicendoci che non potevano concederci l'accesso agli atti, perché questi atti sostanzialmente erano riservati, non segreti, perché non vi era mai stata la posizione di un vero e proprio segreto di Stato, ma ci veniva detto semplicemente che ritenevano di non darceli. La motivazione naturalmente non l'abbiamo ritenuta soddisfacente, ragione per cui abbiamo deciso di ricorrere al Tar Lazio, che il 22 luglio con sentenza si è pronunciato favorevolmente, accogliendo pienamente la nostra tesi e andando anche ben oltre, perché ha ben espresso in maniera chiara e anche evocativa, che si tratta di atti che invece devono essere pubblici, devono essere messi a conoscenza di tutti i cittadini, devono poter integrare le informazioni che ciascun cittadino italiano ha diritto di conoscere e sono quelle motivazioni che li hanno sostanzialmente, hanno tenuto in casa milioni di italiani nei mesi di marzo. Sì, infatti mi scusi, non ci sarebbe niente di strano nel giustificare con dei dati che poi tra l'altro comunque venivano anche diffusi e continuano ad essere diffusi tutti i giorni alle 18, la necessità di atti e amministrativi che ci hanno costretto a casa e che sono stati seguiti comunque alla lettera dagli italiani, come hanno riconosciuto tutti. Il dubbio veramente sul perché non si vogliano rendere pubblici queste carte in effetti fa venire più dubbi la decisione di mantenerle riservate piuttosto che aderire alla sentenza del Tar. Sembrerebbe quasi un boomerang questo avvocato. Esattamente, guardi, lei tocca un nervo scoperto perché noi questo l'abbiamo anche indicato nel ricorso. In realtà le motivazioni del Comitato Tecnico Scientifico, a parere mio e degli altri colleghi ricorrenti, sono delle motivazioni che anzi responsabilizzano ancora di più il cittadino. Se i cittadini italiani sono messi a conoscenza dei rischi, dei pericoli di determinati comportamenti piuttosto che di altri, credo che risponderanno meglio alle limitazioni che sono state in partita. Avrebbero risposto meglio o risponderanno meglio per il futuro, nel caso in cui ci dovesse essere nuovamente un problema sanitario emergenziale, risponderebbero meglio alle imposizioni sulle restrizioni di libertà. Perché siamo convinti, anche naturalmente io faccio parte della fondazione Luigi Einaudi e quindi mi richiamo al pensiero di Luigi Einaudi, che nelle sue prediche inutili diceva sostanzialmente conoscere per deliberare come base della partecipazione civile alla vita democratica di un paese. Quindi io sono uno strenuo sostenitore della necessità che i cittadini italiani debbano conoscere tutte le motivazioni del Comitato Tecnico Scientifico affinché possano sia valutare politicamente il governo che ha adottato delle restrizioni piuttosto che altre restrizioni, sia comportarsi di conseguenza per la loro salute, per il loro bene. È evidente che solo chi può conoscere quali sono i rischi può guardarsi dai rischi ed evitarli. Senta, mi definirebbe, poi la salutiamo con un aggettivo, la decisione del governo di appellarsi contro la sentenza del TAR? Guardi, definire con un solo aggettivo non è facile. Posso dire che mi lascia la mare in bocca come cittadino italiano. Non sto parlando ovviamente come interessato del procedimento giudiziale che sarà adesso al baglio del Consiglio di Stato. Parlo da cittadino italiano. Questa decisione mi lascia la mare in bocca perché mi fa capire che il governo sulla strada della trasparenza ha ancora molta strada da fare. In realtà, oltre alla fondazione Inaudi, in molti avrebbero potuto tentare questa strada, no? Cioè quella che avete tentato voi, giusto? Sì. Abbiamo utilizzato uno strumento, quello dell'accesso civico generalizzato, che è uno strumento utilizzabile da qualsiasi cittadino italiano. E in quanti le risulta l'abbiano fatto? Siamo stati in pochissimi a farlo. No, lo sa perché le faccio questa domanda? Perché se è uno strumento impugnabile, visto che poi nelle ultime settimane, utilizzabile, chiedo scusa, visto che nelle ultime settimane la polemica, come ci sta quella politica soprattutto, no? Da parte delle opposizioni, i convegni che sono stati fatti, perché secondo lei? Mi dia un parere un pochino più politico. Allora, si sono fermati alla decisione del governo di impugnare quello che il TAR ha deciso. Se effettivamente lo si può fare utilizzando uno strumento civile? Sì, è uno strumento, lo ripeto, uno strumento che può essere utilizzato da tutti. Il problema però, qui lasciatemi anche fare una critica anche politica nei confronti di tutti i partiti che si richiamano alle idee liberali. Proprio perché una possibilità data a tutti i cittadini, a maggior ragione era uno strumento utilizzabile anche dai parlamentari di tutti i partiti che si richiamano ai valori liberali. Ed è triste che l'abbiano dovuto fare tre cittadini italiani in proprio, come persone fisiche, nell'ambito ovviamente dell'operatività della Fondazione Inaudi, ma ufficialmente l'abbiamo fatto come semplici cittadini italiani. Quindi è uno strumento alla portata di tutti che però nessuno ha avuto il coraggio di... No, io questa domanda gliel'ho voluta fare perché anche qualche giorno fa discutevamo quando il Premier Conte si presenta in Senato e parla del fatto che la proroga dello Stato d'emergenza non sia anticostituzionale perché si richiamano, insomma l'avrà seguita sicuramente la polega, peraltro ci sono dei noti costituzionalisti che si sono espressi in merito, poi il diritto lo conosce meglio di me. Però anche nella giornata di ieri ragionavamo come tutto questo fosse figlio dei DPCM arrivati durante il lockdown, poi questa risoluzione del Tare impugnata dal governo è legata a questo, ma nessuno fa niente. Cioè le opposizioni anche, che come diceva lei sono lì in Parlamento, continuano a tacere. Allora mi viene a dire sì il governo potrà essere anche il responsabile di questo tacere, ma non mi pare che dall'altra parte facciano molto. Vuol dire che il silenzio sta bene a tutti? Queste sono delle amare considerazioni sue che io condivido purtroppo e che mi lasciano ancora più l'amare in bocca per la situazione che stiamo vivendo tutti gli italiani. Sono perfettamente accorto con lei. Sullo Stato d'emergenza le dico che sulla costituzionalità e lo Stato d'emergenza ovviamente sarebbe troppo complicato esprimere un concetto compiuto qui. Però le posso dire, in brevissime battute, però le posso dire che lo Stato d'emergenza deve necessariamente avere una giustificazione in dati storico-statistici sanitari. Questi dati sono contenuti in quei verbali del Comitato Tecnico Scientifico. Se noi quei verbali non li conosciamo, non possiamo valutare se lo Stato d'emergenza è stato prorogato legittimamente o illegittimamente. Se è stata fatta una superficialità nel prorogarlo fino al 15 ottobre oppure se la data del 15 ottobre potrebbe anche essere insufficiente. Ma noi questo non lo possiamo sapere fin quando non avremo accesso ai verbali del Comitato Tecnico Scientifico. Solo lì ci sono quelle considerazioni tecniche, quei dati fondamentali che servono per comprendere quanto giusto sia la proroga dello Stato d'emergenza. Francamente di fronte alla decisione del Governo di appellare questa sentenza del Tar mi pare che insomma sia molto più grave questo rispetto al fatto chi l'ha fatto chi non l'ha fatto chiunque l'abbia fatto l'ha fatto e il Governo non ha alcuna intenzione di mostrare le carte ma le opposizioni in una democrazia se non ti sta bene una cosa ti tengono nascoste le carte è questa la cosa che deve indignare esatto e ti deve indignare e invece siccome ci si indigna ovviamente perché ti rimbano le opposizioni di fronte al Governo perché la democrazia è questo se io una cosa non mi sta bene faccio assolutamente una sentenza del Tribunale Amministrativo di Lazio io che ci sto a fare in Parlamento se una cosa non mi sta bene imponeva al Governo stesso di rivelare le carte e noi ci stiamo e tu anzi e tu te la stai prendendo con l'opposizione con l'opposizione il Governo il Governo tiene secretate le carte non me la sto prendendo sto dicendo così come il Governo ha assunto questa posizione ed evidentemente preferisce tener nascosto ci sono altre ma l'ho detto all'Avvocato non l'ho detto io ho fatto una domanda all'Avvocato cioè se questo strumento è utilizzabile da tutti quindi anche Luigia Luciani fosse stata in Parlamento e avesse pensato di dire ma perché tu Governo mi taci una cosa e io sono settimane che ti vengo a dire perché me la taci c'è uno strumento in mio possesso e non lo utilizzo mi faccio la domanda mi oppongo perché credo che tu mi nasconda qualcosa invece di indignarsi con il Governo che ha preso decisioni e che si e che continua a voler tenere segretate le carte e te la prendi con l'opposizione io me la prendo me la prendo con chi alza la voce e non fa nulla e fa soltanto manovre tra virgolette di consenso se io sono una in grado di poter far qualcosa e non la faccio e non la faccio e sono votata e pagata per essere lì anche per fare un'opposizione civile e corretta fino alla fine se non lo faccio mi domando se mi limito a dire eh vabbè ma voi avete nascosto e poi non utilizzo gli strumenti mi domando il perché ma la domanda del perché è che comunque è un atto tecnico che ha bisogno di tecnici di avvocati che siano sensibilizzati non lo posso fare io io non lo posso fare quando ho visto che c'erano un po' dei laureati in Parlamento avvocati non lo so insomma o conoscerà non lo so mi vengono in mente un po' di uffici legislativi che sono permanenti proprio in Parlamento se posso dare se posso dare una notizia ahimè vi dico che la categoria degli avvocati è quella che in Parlamento è più rappresentata tra i medici tra i parlamentari quindi è anche molto specializzata no? certi strumenti sono noti a una fetta degli avvocati e non ad altri altrimenti tutti gli avvocati saprebbero fare tutto e non è così insomma anche in ambito legale guardi guardi vabbè comunque prendiamocela con l'opposizione e non con il governo ma benissimo assolutamente assolutamente grazie per la domanda perché faccio una precisazione su questo questo strumento non è uno strumento per gli avvocati o a disposizione solo degli avvocati è uno strumento che tutti i cittadini italiani possono utilizzare lo possono fare gli avvocati come lo possono fare i medici come lo possono fare i giornalisti alcuni giornalisti lo hanno fatto hanno avuto pure loro un diniego magari poi loro non avranno come noi ricorso al tar contro quel diniego questo è un altro discorso il ricorso al tar contro il diniego lo devono fare gli avvocati è evidente però se un giornalista o un politico o un soggetto civile che però è un attivista civile è un cittadino attivo come mi piace definirli avesse fatto richiesta e poi verso il diniego avesse opposto come abbiamo fatto noi il ricorso al tar avrebbe avuto la stessa trafila che abbiamo fatto noi quindi in realtà prendersela con le opposizioni è ovviamente sbagliato in termini assoluti però c'è da dire che le opposizioni questo lavoro non l'hanno fatto e lo potevano fare hanno fatto delle audizioni in Parlamento in cui chiedono a Conte di venire ad argomentare abbiamo mandato in onda un audio video c'ero condotto trasmissioni con te credo insomma di esserci stato abbiamo mandato un audio video dell'onorevole Meloni abbiamo mandato l'altro giorno il dibattito in Senato con le opposizioni che hanno assunto una posizione cioè hai uno strumento quantomeno vai fino in fondo utilizzalo chiedi oh ma mi stai negando si deve scandalizzare in una democrazia mi scandalizzo no perfetto questo è proprio quello che sta succedendo in Italia che di fronte a un governo che tiene segrete le carte uno se la prende con l'opposizione perfetto chi fa solo la voce grossa è più piccolo degli altri è magnifico è veramente fantastico questo è evidente che la responsabilità principale è del governo ci mancherebbe altro ci mancherebbe altro si è chiaro però la voglio dire anche la eh sì ma se tu non denunci voglio dire sai lì io vedo ma non faccio nulla eh lo so anche nei processi accade che c'è la collivenza dato che il governo ha fatto ricorso al Tar io che vorrei vedere le carte posso fare qualcosa oppure no no non credo bisogna aspettare all'avvocatura di Stato poi tra l'altro non al Tar no allora no no il governo così almeno mi attivo come dice la mia collega dai il governo tramite l'avvocatura dello Stato ha promosso l'appello contro la sentenza del Tarlazio innanzi al Consiglio di Stato il Consiglio di Stato deciderà se dare o meno la sospensione cautelare della sentenza di primo grado e poi si discuterà nel merito in questo momento comunque qualsiasi cittadino italiano questo lo possiamo dire perché la radio serve ad informare qualsiasi cittadino italiano in questo momento può avanzare richiesta di accesso agli atti come quella che abbiamo fatto noi e se il governo dovesse dire no non veniviamo gli atti tutti questi potrebbero ricorrere al Tar come abbiamo fatto noi e seguirebbero altre strade cioè ogni sentenza ovviamente riguarda il ricorrente non è una sentenza a beneficio di tutti naturalmente noi nel momento in cui avremo a disposizione questi verbali li renderemo pubblici quindi faremo gli interessi pubblici ma lo stiamo facendo tutelando gli interessi privati nostri di cittadini grazie avvocato buona serata l'avvocato Andrea buona serata 377 504 500 innanzitutto vi faccio io una domanda